Siamo ospiti del gruppo Lunelli, presso le cantine Ferrari in particolare, per parlare di produzioni, di prodotti della terra, di tecnologie, di ricerca e sviluppo e di innovazione. Ne parliamo con Alessandro Lunelli che è titolare, che ricopre anche molte funzioni direttive all'interno delle varie società del gruppo. Parlare del gruppo Lunelli vuol dire parlare della nostra storia, delle nostre tradizioni e soprattutto della nostra origine. Tutto nasce dal sogno di un uomo, Giulio Ferrari, che nel 1902 creò le prime bottiglie di quello che oggi si chiama Trentodoc, ovvero un metodo classico e Giulio Ferrari creò queste prime bottiglie di grandissima qualità e per 50 anni condusse l'azienda pensando solo all'eccellenza del prodotto. Questa eccellenza l'ha trasmise poi a mio nonno che nel 1952 rilevò l'azienda e poi l'esperienza, la tradizione venne trasmesse a mio padre e ai miei zii che continuarono questa tradizione fino a tutti gli anni 90. Dagli anni 2000 siamo noi della terza generazione, io, mia sorella Camilla e due cugini, a guidare l'azienda e a innovare e a sperimentare per il futuro della nostra realtà. Tradizione e innovazione sono due leit motivi che caratterizzano il vostro gruppo, il gruppo Lunelli. Ci parli un po' dell'innovazione, cosa significa innovazione per la vostra azienda, per il vostro gruppo? Innovare non vuol dire infatti solo 4.0, solo digitalizzazione, innovare vuol dire modificare ogni giorno passo dopo passo quello che si fa per migliorarsi. Quindi l'innovazione la vediamo a 360 gradi. Un'innovazione epocale grandissima degli ultimi 5-10 anni ad esempio è tutto il mondo della comunicazione, del mondo dei social e dei digital. Quindi da una comunicazione standard televisiva o anche giornalistica che abbiano sempre poco usato, siamo passati ad una comunicazione sul mondo dei social e degli influencer che è diventata pervasiva e molto potente, molto forte. Questo è un modo di innovare molto semplice per dimostrare che non tutto è 4.0. La sostenibilità è un altro punto fondamentale. Abbiamo trasformato tutte le nostre campagne in biologiche perché crediamo che questo sia un valore per il futuro sia del nostro consumatore che del nostro prodotto e quindi innovazione all'interno del prodotto inteso come trasformazione al biologico. O innovazione vuol dire nuovi prodotti, il lancio del perle bianco di poco tempo fa, del perle nero, del Giulio Ferrari Rosè, di Auritea, un bellissimo Cabernet Franc lanciato nella nostra tenuta in Toscana. Quindi innovazione nel lancio di nuovi prodotti. Innovazione anche nelle risorse umane. Innovare vuol dire ad esempio creare un welfare aziendale e che abbiamo creato da alcuni anni per cercare di aiutare i nostri collaboratori a sentirsi sempre meglio in azienda e quindi ovviamente anche a lavorare meglio. Passiamo così tante ore qui che è anche giusto stare bene. E poi ovviamente c'è l'innovazione più classica nel termine della innovazione tecnologica in due macro aree. La prima in campagna e la seconda in cantina. In campagna è un'innovazione che è lunga. è lentissima ma anche da un certo punto di vista è stata accelerata negli ultimi decenni grazie all'innovazione tecnologica. Oggi sensori posti nei campi, nel terreno, sulle foglie ci permettono di capire lo stato della foglia e della pianta, la vigoria. In Toscana e in Umbria abbiamo un progetto dove andiamo a misurare la riflettanza, quindi un po' il riflesso della luce sulle foglie, per capire se la pianta sta bene o è un po' povera. Ci sono tutti un insieme di sistemi che permettono di operare un'agricoltura di precisione. In questo modo si può andare a operare il meno possibile in pianta per ottenere la massima qualità e la massima salubrità. E anche la pratica del biologico è un'innovazione che si può vedere anche come un ritorno alle origini perché i nostri antenati, i nostri nonni ovviamente facciano il biologico, ma questa innovazione del biologico fa sì che il prodotto sia più salubre, la vita in equilibrio e in generale si ottengano delle uve migliori. A livello di cantina, per chiudere il ciclo dell'innovazione, innovazione soprattutto di processo, di prodotto ne ho già parlato, ma di processo inteso come efficientamento dei macchinari, risparmio energetico e quindi il recupero con efficientamento dei recuperi energetici e anche velocizzazione dei macchinari per cercare di ottimizzare anche l'euro uomo ed altre funzioni. L'innovazione assume quindi un'importanza molto rilevante all'interno del vostro gruppo e si traduce sicuramente in competenze particolari e nella formazione dei vostri collaboratori. Per noi il capitale umano è ovviamente molto importante. Si dice sempre che le aziende sono fatte di persone, ma solo quando si vive un'azienda si capisce che questo è verissimo. Tutto quello che avviene all'interno dell'azienda dipende dalla testa degli uomini che la fanno funzionare e quindi abbiamo una bella squadra di manager che ci aiuta a guidare questa azienda e a far sì che il nostro prodotto, che sia Surgiva, Bisol, Ferrari, Tenuto Lunelli, arrivi ogni giorno dal consumatore nel migliore dei modi. Il capitale umano quindi vuol dire investimenti in nuove risorse, quando ad esempio parliamo di comunicazione digitale, una figura, il digital manager che anni fa non esisteva, persone che controllano la comunicazione sul mondo dei media, dei new media, persone che controllano i social media, persone che guardano a un canale che non esisteva anni fa. Innovazione anche nel mondo della riorganizzazione dei processi industriali, abbiamo preso una nuova figura che ci ha aiutato a fare un salto qualitativo nell'efficientamento di tutta la filiera produttiva, innovazione quindi sulle persone e ovviamente investiamo fin da giovani, quindi talvolta prendiamo manager formati e molto capaci ma abbiamo numerosi stagisti e persone che non ancora lavorano, che sono a scuola, dall'alternanza scuola-lavoro alla formazione che entrano in azienda, stanno da noi mesi o al massimo un anno per cercare di imparare poi tornare a finire l'università e entrare nel magico mondo del lavoro. L'ultimo tema è quello dell'internazionalizzazione. I mercati internazionali rappresentano una grande sfida ma anche sono la chiave del successo di aziende che riescono a portare il nostro territorio trentino in giro per il mondo. Come vengono scelti i mercati stranieri, i mercati esteri su cui puntare? Quali sono le leve su cui puntate? Il mercato del vino e quello anche delle bollicine, dell'acqua, del prosecco segue un po' la storia dei grandi mercati e quindi con grandi mercati parlo di Giappone, Germania, Inghilterra e Stati Uniti. I classici grandi paesi che ci si aspetterebbe. Questi sono i mercati dove noi stiamo investendo molto anche in tema di capitale umano con dei resident manager, quindi con delle persone che vivono fisicamente in quei mercati e riescono a seguire da vicino il nostro importatore e aiutarci da un lato nella comunicazione e dall'altro nella distribuzione del prodotto. Ma oltre a questo ovviamente cerchiamo di far nascere nuovi mercati perché la sfida dell'internazionalizzazione è la vera sfida della crescita della gran parte delle nostre aziende. Rimanere chiusi in un'italianità è un rischio enorme di diversificazione aziendale e anche di futuro nel lunghissimo periodo. Invece riuscire a esportare in moltissimi paesi, oltre che una piccola soddisfazione per il nostro Trentodoc, le nostre acque, i nostri prosecchi, oltre che un orgoglio è anche una necessità per la crescita aziendale. Quindi stiamo investendo anche in mercati, chiamiamoli, non principali come quelli appena citati, parliamo di Svezia, Svizzera, Brasile, Canada, anche Cina per quello, ma sicuramente i big four o 4, 5, 6 paesi maggiori saranno quelli che daranno più soddisfazione. Certo è che ultimamente tra Brexit, dazi dietro l'angolo ed altre difficoltà, dobbiamo muoverci su una strada sterrata, col bagnato e sempre attenti a non perdere il controllo. Diamo una dimensione al gruppo Lunelli in termini di fatturato, in termini di addetti, in termini anche di mercati internazionali su cui il vostro gruppo agisce. Ormai il gruppo Lunelli ha superato i 100 milioni di euro, abbiamo fatto più 6%, questi numeri ancora da confermare, ma nel 2019 dovremmo essere a 107 milioni, quindi con una crescita del 6% sull'anno precedente e un gruppo ormai di 260 persone, prevalentemente in Trentino ma anche in altre regioni d'Italia. Un gruppo che esporta in oltre 70 paesi e che, spero e credo, continuerà a crescere e portare in nome del Trentino e delle altre regioni italiane in cui siamo presenti in tutto il mondo. Grazie Alessandro, adesso ci trasferiamo nei vigneti di Villa Margon. Ci troviamo a Villa Margon con Camilla Lunelli, direttore comunicazione del gruppo Lunelli e parliamo con Camilla dei prodotti del gruppo Lunelli, appunto, che sono prodotti molto legati al territorio e della comunicazione relativa che viene fatta. Sì, noi teniamo moltissimo al legame di tutti i prodotti del nostro gruppo, in particolare di Ferrari con il territorio e in particolare con il nostro Trentino. Non a caso parliamo sempre di Trento Doc per indicare le nostre bollicine, proprio perché noi riceviamo la qualità dei vini che produciamo dalla grande vocazione delle montagne del Trentino e siamo quindi anche felici di restituire in un certo modo, in un circolo virtuoso, appunto, dando comunicazione, raccontando le bellezze della nostra terra. Quali sono gli strumenti di comunicazione e anche di digital marketing che usate per promuovere il nostro territorio e i vostri prodotti anche in mercati molto lontani, che non sanno cos'è l'Italia, che non sanno cos'è il Trentino? Beh, la comunicazione nel mondo del vino, come in tutti gli altri settori, chiaramente sta cambiando molto, quindi a strumenti tradizionali, appunto, come la stampa, la televisione, naturalmente andiamo ad aggiungere tutto quello che è l'attività di comunicazione digitale. Penso, ad esempio, a quell'importante ruolo che hanno i social network. Questi ci permettono, chiaramente, di raggiungere anche dei clienti, e degli appassionati molto lontani, anche in paesi dove magari è un po' più difficile recarsi pernozionalmente, appunto, per raccontare i nostri vini. Uno strumento di comunicazione molto tradizionale, ma in cui continuiamo a credere molto, è il fatto di portare qui le persone, portarle in cantina, a Villa Margon, far apprezzare loro i piatti della Locanda Margon, proprio perché l'esperienza poi vissuta, diretta, resta comunque un modo assolutamente unico ed efficace di trasmettere i prodotti e il territorio che sta alle spalle. Cantina Ferrari partecipa anche a eventi, sponsorizza eventi, sportivi e non sportivi, per promuoversi all'estero e per promuovere il nostro territorio. Cosa fate nello specifico, Camilla? Beh, il nostro è un prodotto che si presta molto agli eventi, nel senso che la bollicina è il simbolo della convivialità per eccellenza, quindi ci piace proprio portare i nostri vini in occasione in cui vi siano dei grandi festeggiamenti, delle vittorie, piuttosto che tanta convivialità. Ecco quindi che abbiamo alcune importanti collaborazioni in corso e prima fra tutti mi piace citare gli Emmy Awards, che sono un po' gli Oscar della televisione, che si tengono ogni anno a Hollywood, in cui appunto tutte le star, le celebrities, brindano con le nostre bollicine Trento Doc. E poi abbiamo da poco avviato una bella collaborazione con il team Prada Lunarossa per l'America's Cup di Vela, quindi accompagneremo questa bella avventura italiana appunto all'America's Cup e poi abbiamo alcune collaborazioni da alcuni anni, una fra tutte sempre per rimanere nell'ambito del calcio con Juventus, che insomma ci dà grandi soddisfazioni. E poi siamo a fianco dello sport italiano in tutti i momenti diciamo più istituzionali, quindi giochi olimpici, invernali e non solo, e penso a Tokyo il prossimo anno, a fianco appunto delle grandi vittorie degli azzurri, speriamo. Oltre a questo lavoriamo anche molto in sinergia con altri brand del Made in Italy, perché ci piace andare in particolare all'estero un messaggio di italianità, di alta gamma, a tutto tondo. Ecco quindi tante collaborazioni in cui i grandi marchi della moda, del design, eccetera, brindano proprio con le nostre bollicine Trento Doc. Il gruppo Lunelli non è solo Ferrari, avete nel portafoglio altri prodotti che valorizzano il territorio e che si legano molto bene tra di loro. In cosa consta oggi il gruppo? A fianco a Ferrari abbiamo una grappa, la distilleria Esegnana, che è una distilleria storica, addirittura più vecchia di Ferrari, fondata nel 1860 a Borgo Val Sugana, quindi la più vecchia distilleria del Trentino. Abbiamo poi appunto dei vini fermi, come dicevo, Toscani e Umbri, ma anche Trentini. Qui lavoriamo soprattutto con lo Sciordone e il Pinot Nero, che sono da sempre i vitigni con cui siamo molto familiari. E poi da produttori di vino abbiamo anche, così è voluto ampliare il portafoglio, passando all'acqua, un'acqua minerale surgiva, che sgorga nel Parco Naturale a Damello Brenta, quindi un'acqua trentina raccolta veramente in uno scrigno, che sono bellissime montagne di quelle zone, e che quindi è molto leggera e perfetta per la ristorazione, in quanto appunto molto delicata, a basso residuo fisso, che distribuiamo in Italia e nel mondo appunto solo nei ristoranti di eccellenza. Ultimo tassello è stato a partire dal 2014. Ci siamo rivolti alla zona del Prosecco Superiore di Valdobbiadene, acquisendo un marchio storico come Bisol 1542, che ha un po' completato questo portafoglio, perché ci permette di raccontare, soprattutto all'estero, la varietà delle bollicine italiane, con due brand leader nel proprio settore, come appunto Ferrari per il metodo classico e Bisol per il Prosecco. Un'ultima domanda sulle competenze che la comunicazione di un gruppo come il vostro, che è molto internazionalizzato, deve avere. Quali sono le competenze dei collaboratori? Sicuramente si stanno sviluppando in due direzioni, chiediamo sempre più apertura appunto internazionale, come si diceva, quindi chiaramente le lingue che non sono direi neanche più un valore aggiunto, ma sono date per scontato come competenze, e poi sempre più, per quanto riguarda in particolare la comunicazione, sempre più competenze digitali.